Siamo detto dal lunedì scorso quando abbiamo capito che probabilmente si aspettava che Zelensky sarebbe scappato e Putin immaginava di entrare e di essere accolto da mazzi di fiori, ha detto alle proprie truppe così leggiamo sui giornali ovviamente, entrerete e vi daranno il benvenuto. Sappiamo invece che anche le popolazioni russofono dell'Ucraina stanno combattendo quindi c'è proprio un discorso di non volere essere sottomessi ad un invasore, è così. Le mie domande sono se questo è vero, quanto conta il morale in una guerra, il cosiddetto morale delle truppe quello di guerra e pace di Tolstoi per capirci e poi vorrei sapere se a sei giorni dallo scoppio della guerra chi sta perdendo e chi sta vincendo. Partiamo dall'inizio, io credo che la narrativa di Putin sia fortemente lacunosa quando lui ha fatto il suo discorso sulle origini dell'Ucraina ha omesso un mucchio di cose che sono realtà sotto gli occhi di tutti, di chi ha letto un briciolo di storia. Nel 1920 l'Ucraina era il centro dell'armata bianca contro i bolcevichi. Nel 1930-31 Stalin decise la collettivizzazione delle terre. L'Ucraina che era il granaio dell'Unione Sovietica era fatta da un tessuto di piccoli medi coltivatori, i cosiddetti kulaki che si opposero a questo, nascosero i raccolti e vennero duramente perseguitati al punto di creare una carestia che durò dai tre ai quattro anni con 4 milioni di morti per fame e una decina di milioni che vennero poi mandati a svernare in Siberia. Quando arrivarono le truppe della Wehrmacht nel 1941 ci sono delle fotografie impressionanti sembra di vedere Parigi quando sono arrivati gli americani cioè truppe accolte come liberatrici poi ci sono accorti dopo 5 secondi di che razza di liberatori si trattava però la popolazione ucraina ha nel suo DNA qualche cosa che comunque la fa guardare verso Mosca con estrema diffidenza cosa che apparentemente Putin non ha considerato. E che non è strano che un uomo che sta al potere da 22 anni avesse così scarse informazioni e intanto vi leggo che il centro di Kharkiv è stato di nuovo bombardato lo rendono nota media ucraina e internazionali citando il servizio statale di emergenza dell'Ucraina secondo cui l'attacco ha danneggiato il palazzo del consiglio municipale il palazzo del lavoro e altri edifici che possibilità abbiamo che riprendano le trattative generale e soprattutto qual è il punto di caduta perché se noi abbiamo da una parte no Francesca Putin che vuole l'Ucraina demilitarizzata e ovviamente Zelensky che vuole che se ne vadano i russi al momento io non vedo punti di caduta ma magari ci potrebbero essere al momento chiaramente sono posizioni incompatibili è positivo che comunque se siano seduti intorno a un tavolo a cominciare a parlarne ridandosi appuntamento devo osservare che quando si fanno delle trattative con i combattimenti in corso è come negoziare con qualcuno che ti punta la pistola alla tempia e quindi diciamo che le prospettive di un rapido raggiungimento di un accordo sono abbastanza remote Nel frattempo la Corte Penale Internazionale dell'AIA ha annunciato che aprirà un'inchiesta su possibili crimini di guerra crimini contro l'umanità sono due cose diverse però insomma una Sì anche per il tipo di armi Johnson dice l'ha definito Putin un criminale di guerra Anche per il tipo di armi che apparentemente vengono impiegate Che armi vengono impiegate? Allora dalle immagini che io ho visto io parlo sempre con il condizionale perché ormai non siamo più sicuri di nulla della veridicità o meno di una fotografia o di una notizia ma da alcune immagini che sono state diffuse a me sembrava che fossero impiegate delle bombe a grappolo Le bombe a grappolo sono le cluster bomb sono dei contenitori che vengono lanciati o da aeroplani o da pezzi di artiglieria si aprono e distribuiscono su una vasta superficie delle submunizioni, delle bombette che cominciano a esplodere secondo una sequenza precalcolata sono fatte per impedire l'utilizzo di un'area Ora, un sistema del genere impiegato in un ambiente urbano è chiaro che non va contro un obiettivo militare va contro i civili Queste bombe sono state vietate da una convenzione che noi abbiamo firmato e non vengono più usate fra i non firmatari ci sono Russia, Stati Uniti e Cina quindi per loro è lecito usare